Beh, era il film di FNAF Sono Harry e devo stare un attimino con la voce un po' più bassa Infatti io ho il microfonino qua, lo vedete? Devo stare un attimino con la voce un po' più bassa Perché sono quasi le due di not... Zitto computer Sono quasi le due di notte ragazzi Come potete vedere, io non vi dico le bugie, guardate qua Guardate qua, quasi le due di notte Eccole, sfondo molto figo, fra parentesi Tutto collegato ragazzi Perché sono appena tornato dal vedere il film di FNAF ragazzi Che è uscito in anteprima qua in Italia il 31 ottobre Che uscirà ufficialmente il 2 novembre per tutti i cinema E ragazzi, per l'appunto, oggi vi pubblico una recensione Ma la recensione non spoiler Così che tutta la gente che ancora non l'ha visto Possa avere un'idea di quello che andrà a vedere senza spoilerarsi il film Le uniche cose alle quali eventualmente potrei fare menzione Saranno le cose che sono già state mostrate nei trailer Ma comunque, poco poco Voglio parlarne da un punto di vista tecnico e senza spoiler Tra parentesi ragazzi avete visto Ho messo la cornicina così Che in realtà è tipo lo sfondo che c'è nelle live Perché mi tocca registrare ad OBS Solo che la videocamera fa un po' più cagare E niente, quindi tipo, via la zanzara Posso registrare la recensione? Sono le due di notte e voglio andare a letto Problemi tecnici ragazzi, come al solito Comunque, ho messo la cornicina Sto registrando OBS ragazzi Contenti? Bello? Ok, perfetto E quindi ragazzi niente Questa è la recensione Senza spoiler, molto veloce, molto diretta Subito così perché è uscita l'anteprima Alcune persone l'hanno già visto Ma la maggior parte no Quando dal 2 novembre uscirà il film di FNAF Effettivo per tutti i cinema Allora farò uscire anche la recensione con spoiler Chiaramente sarà un pochino più approfondita E forse forse anche con la partecipazione del massimo esperto di FNAF Sbri Però vedremo un attimino Adesso dipende se c'ha voglia A parte questo adesso parliamo effettivamente del film di FNAF Senza spoiler Ho visto il film di FNAF Cosa vi posso dire? Sia da un punto di vista di fan di FNAF Sia da un punto di vista di persona normale Che non conosce FNAF o che ne sa poco poco E va a vedere il film Partendo come fan di FNAF Posso dirvi ragazzi Io ho gradito Ho goduto Ho goduto Nel senso non ho goduto del tipo Però ho goduto Nel senso che ho tratto godimento Dalla visione di questo film Sarò onesto Ok? Diciamo che è come vedere tre parti In questo caso La pellicola si divide circa in tre parti Prima parte Ottima Fa un'ottima introduzione Fa un'ottima Bella 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 costruzione di quello che sarà La direzione che poi prenderà il film Seconda parte Molto intrigante Ti va Ti apre un sacco di stradine Diciamo senza chiuderne nessuna Però non diventa qualcosa di irritante Diventa qualcosa di intrigante Che è molto bello Terza parte Quindi siamo sul finale È quella magari sulla quale c'è un pochino di più da dire Però Diciamo che anche lì comunque si è retto bene Ok? Non posso lamentarmi Cioè posso lamentarmi? Però Fino a un certo punto ecco Non posso lamentarmi del tipo Cavoli Ha fatto proprio schifo Cavoli Per 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 Stremi già Proprio dal primo secondo in cui inizia il film Fino all'ultimo secondo in cui finisce Fan service ragazzi A livelli Tremendi Ok? A livelli tremendi Nel senso migliore Del termine Il fan service Alto alto Proprio qua su Qua su Il fan service Fatto bene Fatto bene Su quello davvero non Ogni tanto da ridire Sono contento Dal punto di vista Tecnico La direzione ragazzi Dal punto di vista tecnico Sono sorpreso Possiamo dire Avevamo avuto molti dubbi su Emma Tammi Perché abbiamo visto Che molti dei suoi lavori Passati Intanto non ha fatto troppa roba E di quella poca che ha fatto Ce ne sono tipo due di lavori Che hanno dei voti Sull'80% circa Gli altri al massimo Massimo Sono sul 60% Che è come voto Che non è tantissimo Quindi avevamo paura Che il film di FNAF Rischiasse di essere diretto male In realtà è stato diretto Egregiamente Su questo assolutamente Non c'è niente da dire Posso assicurarvi Direzione Non è montaggio Siamo lì Ci siamo Va bene Anche proprio immagine Posso dire Molti si preoccupavano Della fotografia Dell'immagine Del film L'aspetto visivo Come sarebbe stato Gli occhi rossi Ci si preoccupava tanto Per come li hanno utilizzati Nei punti in cui li hanno utilizzati Posso dire Hanno il loro senso Hanno il loro senso Hanno un effettivo Effetto Effettivo effetto Ci stanno Ci stanno Avevano tanta paura Ci stanno Anche le colorazioni Pensavo che fosse un po' troppo colorato Diciamo Il film E invece ci sta E invece ci sta E invece è bello da vedere E invece gli occhi Sono felice guardando questo film Ok Come immagine Ci sta Ma ora passiamo alla nota Un attimino più scricchiolante Non dolente Perché non è dolente Va detto Non è assolutamente dolente Un pochino più scricchiolante La scrittura E questo C'era da aspettarselo Ok ragazzi C'era assolutamente Da aspettarselo Che la scrittura Avrebbe avuto Dei problemi Ed era chiaramente Anche l'ansia più grande Che avevamo Che andassero a snaturare FNAF Che andassero tutt'altro In tutt'altri posti Con la storia Che andassero tutti Un po' puttane Ora Vi rassicuro subito Di fatto Non si va a puttane Con la scrittura È fatta Per la maggior parte Comunque Seguendo Le linee Che FNAF pone Come genere Come tipologia Di storia Come tipologia Di franchise Ok Quindi Su quello Non abbiate paura Il genere Non viene snaturato FNAF Non viene snaturato Anzi Sia i vecchi fan di FNAF Sia i nuovi fan di FNAF Potranno godere Dalla visione di questo film Considerando che Dà un ottimo effetto Da FNAF Uno Vecchio Retro Proprio Primo FNAF Guardi e dici Bello Io da FNAF Da FNAF Fan originario Sono felice Ecco Però Anche il fan più giovane Di FNAF Sarà contento Nel vedere Il film L'effetto Si ritroverà Ecco Con l'effetto Che danno un pochino Di più I nuovi capitoli Forse Forse Potrebbe piacere Invece un pochino di meno Ai fan di FNAF Che sono particolarmente Attaccati Ai giochi Che si trovano In mezzo Alla Trama di FNAF Ok Diciamo che I fan che probabilmente Lo apprezzeranno di più Come film Sono i fan Dei primissimi giochi 1, 2, 3 E Degli ultimissimi giochi Vedi Appunto Help Wanted Security Breach I fan I fan I fan di giochi Come Sister Location E FNAF 6 Forse Gli piacerà Un pochino di meno Perché Per quanto Da un punto di vista Visivo Sia molto più simile A quei giochi lì Da un punto di vista Di approccio Allo stile E alla trama È un Cicini Scostato È più vicino Appunto Ai primi E agli ultimi FNAF Che è l'approccio Onestamente Che io preferisco È un approccio Ottimo Perché Gli FNAF Centrali Diciamo Nella trama Hanno Molte complicazioni Che Sarebbero state Davvero inutili Avrebbero Pompato troppo Il film Di cose E già Ne soffre un pochino Perché qual è il vero problema Della scrittura Che ci sono Dei momenti Specialmente Verso la fine Dove tu O Sai un attimino Come funzionano le cose Nel mondo di FNAF O Hai letto Tipo I libri I tre libri originali The Twisted Once The Silver Eyes The Fourth Closet Quindi sai come Funzionano certe meccaniche Che vedi nel film Che prende molto spunto Dai libri Tocca dirlo E Posso dire Ne son felice Perché io speravo Che il film Avesse un approccio Simile ai libri Solo che è proprio questo Il problema Cioè O sai queste cose O hai già visto queste cose Le hai già sperimentate In quanto fan Oppure In quanto persona normale Comune mortale Purtroppo Non le capisci Mi tocca dirlo Io infatti Sono andato a vedere Il film E mi sono reso conto Di questa cosa Non puoi Capire benissimo Quello che succede Alla fine Se non ti rendi conto Se non ti ricordi Se non hai letto Quello che succede Nel finale Di The Fourth Closet Per capirci Ok Questa è una cosa importante Questo va detto È chiaro Che il film È fatto molto più Per i fan Di FNAF Piuttosto che per Il pubblico largo Il pubblico largo Certo si può godere Il film assolutamente Piacerà Anche al pubblico largo Ma gli piacerà Come il film occasionale Diciamo Vai a vedere Five Nights at Freddy's Perché non hai niente Di meglio da fare Carino Bel film Mi è piaciuto Ha avuto i suoi momenti Paurosi Ha avuto i suoi momenti Divertenti Carino Ne sono felice Va bene Però finisce lì Non si spomperanno Troppo dietro al film In sé Mentre i fan di FNAF Potranno apprezzare Fino in fondo La pellicola Ecco per capirci E in quanto ad apprezzamento Visto che abbiamo Menzionato l'horror Andiamo a parlare Un attimino dell'horror Come viene gestito L'horror nel film Ragazzi ora Molti erano preoccupati Perché il film Ha un rating PG-13 PG-14 Perché già era Ufficiale Che ci sarebbe stato Poco gore Ragazzi Partiamo subito Da un primissimo concetto Gore Non vuol dire spaventoso E spaventoso Non vuol dire gore Ok La presenza di shangue La presenza di Ammazzamenti Ta 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 Così Non è ciò che rende Un film spaventoso Ok Abbiamo avuto Grandi prove di questo Ecco Nella storia Quindi Cos'è che rende Un film pauroso Tutto altro Questo film Non è che sia paurosissimo Ok Sarò onesto Non è esattamente Un film paurosissimo Però Non è un film paurosissimo Ma non è neanche un film Di quelli che dici Beh cavoli Non mi ha spaventato Cioè cavoli I film di FNAF Certo è un film Su un gioco horror Ma non è un film horror È molto di più Un film thriller Sarò onesto È una cosa Che già avevano menzionato E posso dire Che è così È molto di più Un film thriller Perché vi dico già Che si concentra di più Appunto Su cose come Il mistero Il voler spiegare Certe cose Ha chiaramente Gli elementi Diciamo di trama Che lo rendono Un film horror Quindi Cose che sapete già No a presenza Di fantasmi Le anime Che impossessano Gli animatronic Questo lo sappiamo già Ecco queste cose Che sono chiare caratteristiche Di un film horror Ci sono Però Come approccio Segue quasi più Un approccio thriller Che ci sta Onestamente Abbraccia bene FNAF In sé Perché è chiaro Che se andessimo A prendere FNAF Sotto un'ottica Troppo horror Allora Dovremmo per forza Concentrarci su stili Come quello di FNAF 4 Ecco Perché È lì che abbiamo Proprio Gli incubi I mostri No ecco Che sono elementi Chiave Proprio dell'horror Puro Dell'horror Classico Il mostro L'incubo La notte La paura Ecco In FNAF Non necessariamente Ci sono questi elementi Anzi Molte volte Ci sono addirittura Elementi di fantascienza Però è chiaro Che FNAF Non è un film Di fantascienza Ecco Contando queste cose Tecniche così Possiamo dire Che il thriller Ci sta Come approccio Al film di FNAF Assolutamente E quindi Concludo Abbastanza velocemente Poi chiaramente Quando avrete visto il film E vorrete vedere La recensione Invece Con spoiler Potrete andarla A vedere Lì ne parliamo Molto più approfonditamente Parleremo di singole scene Del film E di pensieri Effettivi Proprio e personali Che ho sul film Parlandone soltanto Così sbrigativamente Vi posso dire Che Entrambi I voti Che vengono dati Su Rotten Tomatoes Sono Sbagliati Sostanzialmente Il voto Che viene dato Dalla critica Che è un bassissimo 30% Circa È seriamente Troppo basso È davvero È ridicolo Non capisco Non cazzo i critici Vaffanculo Il voto Che viene dato Dall'audience Che è circa Il 90% È un cicini alto Ok Non siamo Né a un film Da 3 Né a un film Da 9 Ok Se dovessi dirvi io Siamo su un 7 Però Specifichiamo una cosa Il voto Ve lo do soltanto In questa recensione Perché essendo senza spoiler Per darvi un'idea Un pochino più chiara Di quello che andrete a vedere Mi tocca darvi anche un voto Un numerino Che vi dia un'idea più chiara Per la recensione Invece Con spoiler È chiaro Che non si parlerà di voti Perché è difficile Dare un voto È una cosa Abbastanza soggettiva In quel caso Descrivendo le singole scene È chiaro che potrete vedere Se essere d'accordo O meno Con quello che vi vengo a dire Ma ci penseremo Nel video della recensione Con spoiler Intanto il video della recensione Senza spoiler È finito Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Potete lasciare un like Sotto questo video Commentatello Con quello che vi so Fate voi iscrivetevi al canale Per non perdere un video E noi ci vediamo Al prossimo video Che sarà La recensione con spoiler Perciò ragazzi Ciao